e al contrario ragazzi oggi metti a fuoco a fuoco oggi ragazzi esce il DLC di blodbon non vedo l'ora di giocarlo sono assolutamente arrugginito su questo videogioco perché quanti mesi sono passati saranno passati 7 mesi da quando l'ho giocato l'ultima volta quindi sarò totalmente arrugginito credo che morirò così tante volte che non si potranno neanche contare però se voleste venire a contarle al posto mio venite a seguirmi su Twitch perché logicamente lo streamerò vedremo insieme un po' come il DLC vi aspetto numerosi cazzuti piselloni come al solito piselloni così perché Twitch qua sotto c'è il link lo streamerò nel pomeriggio dalle due e mezza più o meno poco prima fino a sera o fin tanto che ci avrò sbatti di giocarlo prima che non so mi taccheranno la corrente perché o prima che spezzerò il disco perché avevo succhato troppo quindi mi raccomando ragazzi è stato oggi il pomeriggio su Twitch tv twitch.tv slash legoste 90 ma il link è qua sotto che cazzo ve lo dico a fare basta che clicchiate e ce la fate e poi siete già iscritti sicuramente oggi ci gioca e moriremo un sacco di volte MOLDO MOLDO Grazie per la visione!